Sì, ti dico che non c'è problema, stai tranquillo, non verrà nessuno, va bene, va tranquillo, ti dico tranquillo, stai tranquillo, va bene, va bene, ciao, 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 ciao. Salve, senta, mi sono trasferito qui da poco e volevo avere informazioni per quanto riguarda il bando del nuovo svincolo sull'autostrada. Mi hanno detto che... che potevo parlare con lei. Ma fa... se ma fa tutto, che... Bandi, patrocini, finanziamenti, dipende dal taglio. Dal taglio? È certo! Taglio... piccolo... Taglio... medio... Taglio grande... Acconto! Che faccio, signor? Che faccio, signor? Che faccio, signor? Lascialo! Taglio grande... Spendio grande...